Cosa vuol dire fare finanza etica? Finanza etica vuol dire darsi degli obiettivi strategici che si aggiungono a quelli del profitto e quindi trovare il modo per misurarli questi obiettivi strategici. Ovviamente parliamo di obiettivi sociali e ambientali, quindi voler raggiungere dei risultati, trovare degli indicatori per misurarli e quindi per vedere se effettivamente stiamo facendo quello che la finanza etica vuole. Quale sarà il ruolo della finanza etica per un futuro più sostenibile e solidale? Secondo me ci sarà un grande ruolo per la finanza etica nel futuro perché è abbastanza evidente che la finanza tradizionale non è riuscita a gestire finora le grandi problematiche globali che abbiamo, i cambiamenti climatici piuttosto che le disparità che generano migrazioni. E questo è perché non sono stati introdotti obiettivi strategici come la riduzione dei cambiamenti climatici oppure il fatto che arrivino le risorse anche alle aree povere del pianeta. Quindi credo che questa idea della finanza etica, magari non nelle forme che abbiamo fatto noi pionieri, però questa idea della finanza etica avrà veramente un futuro importante e genererà economia.